Spesso lei me lo concederà, questo con toni esageratamente forti, ma esprime un disagio, cioè gli sbarchi che continuano nel nostro paese, i soldi che si spendono, perché le persone che arrivano sono persone che vanno tutelate e delle quali bisogna avere cura sotto tutti i punti di vista, sono un altro capitolo, secondo voi, difficile da far digerire agli italiani del lavoro di questo governo? Il vostro telegiornale ha appena detto che la metà dei pensionati prende meno di 700 euro al mese, ora chi sbarca domani mattina in Sicilia e fa domanda per essere riconosciuto come profugo, costa allo Stato italiano 1200 euro al mese, domando dove sia l'etica, il buonsenso, la giustizia, il riconoscimento nei confronti di chi ha lavorato in questo paese per 50 anni, quando gli dai la metà rispetto a quello che dai a chi sbarca domani mattina. Io dico però che siccome non si risolve nulla gratis, non dico bacchetta magica l'immigrazione scompare, i soldi che spendiamo oggi sono spesi male, spendiamoli sull'altra costa del Mediterraneo, spendiamola per dei villaggi di accoglienza e di selezione fra chi ha diritto e non ha diritto sulle coste nordafricane, evitando i morti, evitando le partenze, evitando di disseminare negli alberghi di mezza Italia gente che poi bivacca in stazione, in strada davanti agli asili, chi ci sta guardando sa di che cosa sto parlando a Milano, a Roma, a Napoli, a Brescia o in Sardegna. Sicuramente la gestione di oggi non funziona. Io dico spendiamo i soldi che si buttano via oggi con Mare Nostrum, là, sulle coste del Nordafrica, l'ha detto anche il Dalai Lama che sicuramente è più buono e attendibile di me, perché l'attuale gestione, e Renzi su quello è silenzioso, perché evidentemente si vergogna, ma andavanti Alfano, poveretto che non sa più che pesci pigliare, al posto sbagliato, nel momento sbagliato, ma c'è un Presidente del Consiglio? Più che dire l'Europa non fa niente, l'Europa non fa niente, l'Europa... E' chiaro che l'Europa non fa niente, è sei mesi che l'Europa non fa niente, svegliati tu, fai qualcosa tu.